E' arrivato il momento di svappare, svappo me! Praticamente sta nel Vangelo, dato che noi siamo in un certo qual modo proiezione del Vangelo, di Cristo, che è stato solidale innanzitutto con la natura umana e poi con tutto il contesto storico, ci ha regalato profonde parole che hanno un grande significato. Su queste parole si è innestato anche il cristianesimo, di conseguenza anche tutti coloro che hanno fede. Don Diana ha vissuto sulla propria pelle le contraddizioni tra quello che è la vita nel sociale, la vita nel moderno, la vita dell'oggi, con la vita vissuta interiormente attraverso quelle che sono le parole del Cristo, che lui ha espresso non soltanto con le parole, ma ha espresso nella vita. Tant'è vero che questo suo popolo, come Cristo aveva offerto la sua vita sulla croce per tutto il mondo, per tutto l'uomo e con Don Diana per la sua gente, con la quale aveva questo legame di fede, e il senso anche della giustizia e il senso della carità, perché molte volte dietro queste parole si nasconde tanta politica. Invece un cristiano vero, così come era Don Beppino Diana, ha saputo coniugarle nella verità, nel dono di sé. Il premio Don Beppino Diana è un premio importante? No, una grande emozione, una grande sorpresa. Non te l'aspettavi? No. E quando hanno detto che avevi vinto? No, sono rimasta un po' senza parole, non sapevo che dire. Non consideravi il tuo elaborato degno di vincere? Vabbè, perché non l'ho preparato molto, non l'ho scritto di getto, quindi non pensavo che in confronto a altri che l'avevano preparato da tempo potesse essere degno di vittoria. Sono soddisfattissimo, c'è stato un bel lavoro di tre o quattro mesi a parte delle scuole, insegnanti, la disponibilità dei presidi. Hanno preso parte a questo progetto, dozzine di persone e si è concretizzato in questa giornata con la premiazione. Sono soddisfattissimo, c'è un lavoro quindi meraviglioso alle spalle. Che cosa ci proponiamo di fare con questo corso di scrittura? Semplicemente una cosa, aiutare un attimino le famiglie a contribuire a crescere e a realizzare una società più sana e più solidale.